Siamo qui oggi a presentare il libro su un personaggio importante come Sergio Gambato. Certo, allora questo è nato una cosa dovuta insomma nel senso che Sergio ha collaborato per la provincia di Rovigo per più di 40 anni, ha cominciato negli anni 70 ed è diventato un po' una presenza stabile per il nostro ente, si è occupato del territorio interamente dalla musica, al teatro, alla prosa, alle mostre, l'arte pittorica, tutto quello che era arte era per lui motivo di interesse e tutte le iniziative culturali hanno sempre avuto quasi sempre la sua firma e devo dire che l'ha fatto sempre con molta dedizione, con molta generosità ed è per questo che abbiamo deciso di pubblicare questo libro, di raccogliere un po' tutti i suoi iscritti, una parte anzi dei suoi iscritti perché sono veramente notevoli, dalle pubblicazioni per le mostre, dalle recensioni per gli articoli di teatro, soprattutto una parte degli eventi dell'estate teatrale che lo occupa per moltissimi anni con numeroso impegno, un lavoro fatto completamente da lui di scelta degli artisti, di addirittura trattare con gli impresari per i prezzi, per valutare anche nelle piazze dove stesse bene una cosa al posto di un'altra, per il teatro, per tutto ed fu una cosa di particolare rilievo a quei tempi, è durata molti anni, che in pratica fu la madre di Villa e Giardini, l'estate teatrale, fu una novità assoluta a quei tempi perché coinvolse cittadini e paesini sperduti e quindi il suo ricordo è legato particolarmente a quell'iniziativa ma comprende anche tutte quelle che fece dopo fino alla sua scomparsa nel 2017 quando l'ultima rassegna teatrale che lui curò fu una rassegna teatrale in Badoera con la fita che è il teatro amatoriale.